Ciao a tutti e bentornati sul canale Oggi proveremo A vincere altre due partite La prima è contro il B-Field Che è sotto di noi Siamo privi Purtroppo Di Roby Baggio Il nostro Roby Baggio che si è infortunato Abbiamo messo Ia Yoda E Kraft come sostituto L'Ener L'abbiamo fatto già fare qualche partita Proviamo a portare in panchina Al Varets Che sta crescendo bene Ribar 59 Però lì 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 può fare anche l'ala destra Proviamo a fargli fare un tempo Così Proviamo Kraus Kraus Brand Il terzo portiere Meier Meier Abbiamo un casino di giocatori Vediamo se serve Mettiamo Meier Proviamo a portarci qualche giocatore giovane Lang 1,84 1,84 Ma Il nostro obiettivo è la serie A Dobbiamo provare un po' i giovanotti Perché se no Se no Non riusciamo a fare nulla Che se qualche giocatore non va Lo diamo in prestito Vedremo come si comporteranno le due squadre Nel momento della verità Abbiamo troppi esterni destri Troppi esterni destri Troppi esterni destri Come terzini destri anche Bermuda dobbiamo decidere cosa fare Penso che sono arrivati due nuovi Eh però lì Inizia a piacermi lì Anche a destra Un po' i giovanotti Un po' i giovanotti Un po' i giovanotti L'altro non abbiamo subito due gol Però Al 93esimo Ci ha pensato a Chinora Allora abbiamo detto Di Silva Non è fallo Vabbè Oh male Castro Bernabé Lì Ha coraggio lì Ha molto coraggio lì Bello Bello De Silva Come se ne va Uber 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 Al consorio Oh ma solo gli altri rimpalli vanno bene A me non capita mai Madonna se la metteva da lì Alla del Piero Alla del Piero Ma io voglio quei giocatori sulla fascia Non voglio i centrali Bello No Ah no Il gioco Ah Bravo Uber Con calma Con calma E sangue E freddo De Silva E partito Aia Aia Mamma mia Winter Guardalo Uber come scatta Guardalo No No Ma perché Ma i Schultz Klaus No Klaus Schultz è un altro La Uber Bravo Winter Che cosa fa Bravo 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 No Dai Dai Lei Dick Hm No Per poco 0 Una Ho fatto saltare Bravo Klaus E classe. Bello, Prachimola. Bello. Peccato. Peccato. Non stanno giocando quelle che ci interessano, quindi mi metto da guardare. Bravo Bernabelle. Bravo. Non capisco perché la prova. Dai. No. Mamma mia. Bravo lì. Bravo lì. Bravissimo. Bravo. Oh. Perché? Si è stancato troppo lì. Mamma mia Winter. Cosa stava per fare? Bravo. No. Bravo Bernabelle. Dai lì, dovessi scattare. Non ce la fa più. 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 Madonna che bomba gli ha tirato. No aspetta, io voglio provare quello giovane però. Voglio provare quello giovane. Lì. Meglio. Alcima. 2-1. Ma ai guaiber. E' tua. Bravo. Bravo. No. Nooo... Pide debole. Abbiamo sto Meyer. Di sinistro, molto. Provare a fare lo stesso tiro, ma di destro. Non ci credo. Nooo... Eh... Non è facile ritrovare la vittoria. Ah! Come fai se c'è la zenzana in pieno giorno? Daaaaaaiiii! Beh, questi ci regalano il polletto, se vinciamo. Nooo... Nooo... Eh, Meyer... Eh, vabbè. Se lo tiro a schiacciore. Bello! Bello! Bello Meyer! Bello Meyer! Bello Meyer! Mamma mia! Se mi entrava questo gollo lo toglievo, ma... L'ho dovuto togliere. Ho bisogno di un peso in attacco. Un po' più alto, per meno. Se ci da lottare... Bravo! Bello! Oh.... Ehm... Nooo... Nooo! Nooooo! Meijer! che assomiglia leggermente a a un certo CR7 ma leggermente ci assomiglia mi ha rappreso no, un pareggio no, però dai, fammi continuare se stai vincendo la tira avanti fino a far 4 minuti quando pareggi o perdi, fischia subito questo è un punto che non è che ci serva molto allora, cosa dice qua? ah, la stiscia, abbiamo i giocatori giusti si, si sempre due ottime difese puntiamo sempre a vincere la tut si sarà che forse abbiamo fatto fare troppi allenamenti? allora qua c'era il Varets ma ce ne manca uno e noi mettiamo lì finalizzazione questo oh, beh, il transale ok dobbiamo avere un allenamento in più mi sembra si, infatti, c'è la sosta offerta per la Cina piacerebbe ma no scusate no, perché se non sei inseriati salta un allenamento oh Krauss alla 69 diventando un mostro in difesa questo oh, e abbiamo siamo a tre punti no, a due punti dalla ecco, appunto cinque punti dalla Augsburg però poi avete in più, eh ha una partita in più andiamo a giocarci questa col Furt col Furt col Furt facciamo tornare a Pia in porta sicuro eh Lang alla fine non ha giocato eh dunque, dunque però Ribar prima di faremo fare un tempo a Ribar facciamo fare un tempo a Lang poi abbiamo Dejan Kowalski Alvarez Lee Deili ma facciamo fare un tempo a Deo una partita a Deo di va Bernabéi dai, proviamo così comunque lì lì mi è piaciuto non mi posso lamentare di lì che è Ma neanche degli altri, anche Meijer mi è piaciuto, è andato quasi vicino al gol Meijer. Quindi dobbiamo vedere Rebar come si è composto, Rebar è quello che ancora, perché il Varets ha segnato, lì mi è piaciuto, posso chiusarlo come esterno, Rebar è il dubbio della giornata. Cosa ha fatto? Si è fatto un giochetto. Inutile dire quanto sia forte il nostro portierone. Oh, Lei lì. Resilva. Bernabé. Ibar. Fuori luogo. Bravo. Ce l'ho dato anche a PA. Oh. Cosa tira fuori i cartellini? Oh. No. Ogni tanto qualcuno che tira fuori i cartellini c'è. Non c'era il tiro, Rebar. Oh. Cosa fa a PA. Cosa fatta a PA. Cosa. Cosa fatta a PA. 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 Prova Ciuber Eccolo, avere un altro di testa cosa vuol dire Eccolo, un altro altro di testa Mamma mia, Lang Che vuole rubare il posto a Ah, Weber Dai, dai, fuori, fuori Kraus, Kraus Uber Come giocano Di Bala Musk Il suo idolo è Di Bala Quinto gol Ah, sono tutti forti Stanno crescendo tutti Non si scatere da nessuna parte C'è Kraus lì C'è Kraus lì Ci vedrai Biscard Dobbiamo farli giocare un po' tutti Dicembre è vicino, il mercato è vicino Dai, il Bernabéi, un gol Ma come è quel gioco? Dovevo dargli la prima Bernabéi Bernabéi Ancora è Bernabéi Ancora è Bernabéi No Eh, perché Questa, cioè Il meccano c'è un rimpallo Me la buttano fuori O la para Allora un rimpallo Segna Tillman Siamo di nuova in parità Grazie a nuove E' un ruolo Non va Prosegue l'attuazione C'è cambio in vista Della squadra di Gatti Probabilmente è un altro Che non è soddisfatto Scuschiera di Gatti Suoi uomini No No Ma va va Oh Cioè Gli rimpalli sono tutti ora Perchè che l'ho messa di là? Dai Ma cosa ti fai i giochetti? Dovevi solo tirarla Cioè La porta vuota Si fa i giochetti Vabbè Vabbè Non fosse di Bala Non fosse di Bala Ne avremmo alto dietro Anche servo Oh No vabbè No No Sa Nel suo momento Ho capito Ho capito Ho capito Eh Comunque Libal Mi è piaciuto Croft Proviamo Un po' di spinta Proviamo Ma cosa fai? Vabbè Non ci credo Ci posso credere Kraft Appena entrato Si posso credere? Ah io che volevo darlo via Era già il primo Che mettevo sulla lista E invece L'attima di vista è calmo però Eh Le spinte le hai detto Sorella Sorella Dai E tira Ma che cazzo Perfino Mentre Non è meno nervoso Lo sta facendo nervoso Questo qua Non mi sa che chi ha tirato, ma... bel tiro! Ha cresciuto Kraft, eh? Un altro sprint da vittoria, direi. Bene, bene, bene. Ritorniamo a meno 2 dalla terza. Meno 2 dalla terza che non è in moda. Abbiamo i giocatori giusti. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita. Ma si sono stati più forti, chi se ne frega. Winter. Cosa vuole Winter? Che sta giocando tutta la partita? Ah, ok. Ma era contento o era triste? Ne facciamo Uber, va? La città scatto 82. Buono. Buono, buono. Sì, sempre meno 2, però l'Hamburgo una partita in meno, come il Norimberga. Ok. 12 punti dalla prima. Va bene, ci interessa prima la terza, poi... Più 5 sulla quinta siamo. La prossima abbiamo l'Osnabruck, che è un'altra fabbrica di giocattoli. Poi il Norimberga, il Kiel e l'Asburgo, che poi inizia dicembre. Bene, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti e Forza Monaco! Ciao a tutti.